Buongiorno, ben trovati. Appuntamento con Mattino 6 di giovedì 13 ottobre 2016, apriamo la nostra consueta rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi oggi in edicola. Partiamo dal centro, dalle quattro edizioni del centro, partiamo dalla prima pagina dell'edizione di Pescara per vedere insieme quali sono gli argomenti trattati sul quotidiano. Ecco qui la cronaca in primo piano, narcotizza l'amico per rapinarlo, Pescara ragazza versa uno psicofarmaco nella Coca-Cola di un 54enne, lo manda in coma in ospedale per giorni insieme a due complici, doderuba di soldi e Bancomat ma due telecamere li incastrano e l'indagine è stata conclusa positivamente dagli uomini della squadra mobile della questura di Pescara. E poi vedete la fotonotizia, si parla di sport di Zeman, di Zenech Zeman, l'allenatore boemo ex tecnico del Pescara che ieri è stato a Miglianico per partecipare al Miglianico Golf Club, ad una manifestazione organizzata dal Circolo Teatino e ha parlato ovviamente anche di calcio il tecnico Biancazzurro. E poi le cronache sempre da Pescara e provincia, rapine in casa, sale la paura, sindaco pestato, carabiniere derubato, allarme nei paesi dell'area vestina. Poi vedete di spalla le altre notizie di cronaca che troveremo all'interno del giornale, incidente in Sicilia, purtroppo morta la donna pescarese ustionata dopo l'esplosione, l'esplosione avvenuta in un appartamento della provincia di Siracusa. E poi la politica, il sindaco di Pescara fa squadra, nuova giunta in ritiro nel museo. E poi iene all'attacco, il comune vuole querelare, qualche giorno fa nuova visita delle iene in comune a Pescara per la vicenda del mare inquinato. Lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara e siamo già alla pagina relativa all'edizione di Chieti. In questo caso il titolo principale riguarda l'omicidio di domenica scorsa. Il GIP dice Cipressi, violento e pericoloso, resta in carcere. Il 24enne accusato di omicidio spunta un sms dell'indagato alla superteste. Una patatina di un cagnolino ha scatenato il raptus del giovane, folla, al funerale. Vedete nelle immagini del 39enne, morto proprio nel corso in conseguenza della lite che si era scatenata in un locale di Chieti Scalo. E poi false assunzioni se indagati, Chieti chiusa l'inchiesta per la truffa ai danni dell'università. E poi si parla ancora nel capoluogo teatino, sfidò la mafia, il nuovo capo della procura, a Chieti arriva il PM Testa. E poi Copp contro Asle per la gara da 10 milioni, siamo a Lanciano, si parla di questo appalto per i trasporti. E poi a Basto, cronaca, i cittadini sventano il furto al distributore, banda messa in fuga. Lasciamo la prima pagina del centro edizione di Chieti, siamo a quella dell'edizione di Teramo. Vedete il titolo principale, ancora cronaca in questo caso, preso con 5 kg di droga, arresto a fiumicino di un teramano di ritorno da Amsterdam. E poi la fotonotizia, centro pagina, posti per invalidi occupati, tapiro d'oro al manager della Asle di Teramo. Vedete nella foto, e poi retata di prostitute e clienti, pugno duro del nuovo questore sulla bonifica del Tronto. E poi ancora Teramo, ragazza trovata con i pidocchi, puniti i genitori. A Roseto, a Rena, quattro palme, c'è lo stop all'acquisto. E poi Giulianova, San Flaviano, il nuovo prete, spegne le luci per risparmiare. E siamo alla prima pagina del centro, edizione di L'Aquila. Anuncio shock alla Saci, 19 a casa, siamo a Cagnano, Amiterno, il gruppo Cartagione, perentorio, tagli necessari per la crisi dell'edilizia. E poi l'Aquila, sentenza pilota, casette abusive e post terremoto, assolto il primo imputato. E poi muore dopo quattro giorni di agonia, torniamo alla notizia che avevamo visto anche nell'edizione di Pescara, sempre del centro. Tragedia in Sicilia, ustioni fatali ad una donna che era in vacanza ad Avola, in provincia di Siracusa. Poi siamo alle cronache di spalla nella Marsica, San Benedetto di Marsi, insegnante allenatore, muore nel sonno. E poi sempre ad Avezzano, la protesta ai commercianti, tanto degrado in pieno centro. E poi il manager cambia vita e sceglie a Sergi questa storia che arriva dalla provincia dell'Aquila. Andiamo avanti per vedere la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero. Il titolo in alto, seconde case abruzzo all'attacco, decreto terremoto, la regione punta all'estensione dei benefici previsti per Amatrice. E poi ambulatorio abusivo e falsi dentisti, il blitz, tre denunce tra Pescara ed Alba Adriatica al termine dell'operazione condotta dal NAS. E poi lo vedete a centro pagina l'omicidio di Chieti, Fiori e Violino per l'addio a Fausto Di Marco. E chiudiamo con la prima pagina del quotidiano La Città. Alba, il Taras blocca il depuratore, respinta la sospensione dell'affidamento dell'appalto. Adesso il Ruzzo può procedere con i lavori. E poi vedete a centro pagina anche sul quotidiano La Città la notizia della consegna del tapiro d'oro al manager della ASL di Teramo. Fagnano, vedete nella foto sorridente ovviamente il manager e anche l'inviato di striscia la notizia per la consegna di questo tapiro. Allora possiamo lasciare le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, quotidiani ovviamente abruzzesi. Possiamo andare a vedere invece come facciamo di consueto anche le prime pagine dei quotidiani nazionali che troverete oggi in edicola. Partiamo dalla Repubblica per vedere i titoli più importanti. Referendum, nuovo scontro, D'Alema Renzi, poteri forti, il premier ci minaccia, dice D'Alema. E poi arriva la risposta di Renzi e poi anche quella del presidente della Repubblica, Mattarella, che dice e auspica un confronto sereno. E poi nella gabbia di Gaza, ora i palestinesi sono 2 milioni e ancora scuola, emergenza, sicurezza, miliardi rimasti nel cassetto. E dalla Repubblica siamo al messaggero, pensioni anticipate meno care, uscite volontarie dal lavoro più convenienti, penalizzazione ridotta al 5%. E poi italiani del sud schedati a scuola, Londra si scusa dopo la denuncia dei giorni scorsi. Questa brutta figura del governo inglese sono stati corretti i quiz proprio che tanto scandalo avevano destato nei giorni scorsi. Siamo al Corriere della Sera, rispetto prima e dopo il voto, richiamo di Mattarella, confronto sereno, Renzi attacca, l'Unione Europea, dice il premier immobile. E poi Putin all'attacco in Occidente, isteria antirussa, clima davvero da guerra fredda tra il paese del presidente Vladimir Putin e il blocco cosiddetto Nato. Proseguiamo, la stampa di Torino, manovra, mancano ancora 7 miliardi, 1,5 di taglia alla sanità, oggi vertice tra i ministri Boschi e Lorenzin, la rivolta delle regioni. E poi Giacchi Khalid, i 16 mila bimbi migranti senza genitori, questa è la storia raccontata dal quotidiano La Stampa. E proseguiamo, siamo al tempo di Roma, Berdini, consulenza scomoda per i 5 Stelle, l'assessore Grillino lavorò su Tor Vergata ad un progetto finanziato da Caltagirone. Lui dice, no, collaboravo con l'Ateneo, e poi la foto a centro pagina, siamo ancora a Roma, Garbatella, via lo schifo, vogliamo tutti i muri, così. Proseguiamo, siamo al fatto quotidiano, il titolo centrale, vedete il PD confessa, realizziamo la riforma di Berlusconi, questo è il titolo che riguarda la politica, vedete nella foto l'attuale premier Matteo Renzi e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Poi in alto, la legge per assumere i ricercatori, li licenzia, e un altro titolo, telecamere negli asili, anti-maestre, violente. Siamo al quotidiano della CEI, avvenire, almeno i bambini, accorato appello del Papa, imploro un cessato il fuoco, ha detto il pontefice, che in Siria permetta di evacuare i civili, ostaggi dei combattimenti. E poi vedete altri titoli su avvenire, azzardo nazionale, via d'uscita, cercasi, si parla di, in questo caso, di economia e della manovra del governo in particolare. Poi siamo al Libero, Bruxelles sembra un'associazione per delinquere, Libero titola Ladri d'Europa, un saggio di Roberto Ippolito, documenta gli sprechi dell'Unione Europea, aiuti a pascoli inesistenti, fondi per autostrade vuote, immobili che non rendono nulla, soldi che finiscono nelle tasche di amici degli amici. Scandalo intollerabile, dice Libero. E poi, rivolta antiprofughi in Francia, vedete la foto, è sopra in alto, presto scrive Libero, toccherà anche a noi. E poi, in basso, la Clinton, finanziata da chi paga lisis, prende denaro dall'Arabia Saudita. Questo articolo che parla ovviamente delle accuse da una parte e dall'altra, tra i due candidati alla presidenza del dopo Obama, Donald Trump e Hillary Clinton. E siamo al manifesto Gianni e Pinocchio, questo è il titolo principale del quotidiano della sinistra. La situazione è drammatica, ma non seria. E c'è questo titolo un po' ad effetto del quotidiano, appunto, il manifesto. Vedete nella foto il premier Renzi, che è anche segretario del Partito Democratico, e Gianni Cuperlo, che è un membro della minoranza interna del Partito Democratico. E siamo al mattino di Napoli, pensioni anticipate, meno tagli, riduzione annuale al massimo del 5%, nuovo scudo fiscale da 2 miliardi. Vedete in alto, Napoli discriminata, Londra chiede scusa, ne abbiamo parlato anche prima dal titolo del messaggero, questa gaff del governo inglese. E poi i grandi trionfi azzurri, nelle pagine Drabrivido, c'è questa iniziativa del mattino. A fondo pagina altri due titoli importanti. Il primo riguarda il referendum, il Presidente della Repubblica, Mattarella, dice serve più rispetto. E poi il terrorista siriano, che era stato fermato in Germania perché sospettato di preparare un attentato all'aeroporto di Berlino, si è impiccato in cella. E siamo alla gazzetta del mezzogiorno. De Caro, sindaco dei sindaci, io garante di tutti e senza tessere di partito, è stato il sindaco di Bari, è stato eletto ieri il Presidente dell'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. E poi processo ILVA, c'è il rischio trasferimento. In alto vedete due titoli che riguardano la Puglia, in particolare Bari, Teatro Petruzzelli a rischio, 74 lavoratori, Lecce in cella, l'avvocato che difende i consumatori. Siamo al secolo XIX, il giornale di Genova, governo a caccia di 7 miliardi, nuovi tagli in arrivo per la sanità, le regioni già pronte alla protesta. E poi una notizia di cronaca che arriva dal genovese, orrore nel bosco, a Lumarzo il giallo di un uomo trovato, decapitato, si era pensato ad un incidente, invece ora si propende per l'omicidio. Siamo al quotidiano l'unità, l'Europa è ferma, Putin minaccia, Renzi in Parlamento, dice il Premier, l'unione esca dall'immobilismo, basta soldi a chi rifiuta i migranti. Siamo al quotidiano La Verità, nuovo giornale diretto da Maurizio Belpietro, la Croce Rossa aumentano i pazzi fra gli immigrati giunti in Italia, fenomeno allarmante. Poi vedete i ritratti del quotidiano La Verità, Alfano il ministro che ha tradito anche se stesso. E poi una notizia che riguarda l'economia. McDonald's ha nascosto 74 milioni al fisco, presentato all'Agenzia delle Entrate e alla Commissione Europea, un esposto contro la multinazionale dell'alimentazione. L'ultimo giornale era proprio La Verità, abbiamo visto dunque i titoli dei quotidiani in edicola nazionali, in edicola questa mattina. Noi torniamo, allora possiamo tornare sulle pagine del centro, abbiamo visto le prime pagine delle quattro edizioni, ora siamo alla pagina relativa all'Abruzzo, tu all'aumento dei biglietti, si parla di trasporti, in questo caso non basta coprire i tagli, mancano 10 milioni tra penalità e mancati trasferimenti dello Stato. La CGL Abruzzo chiede ai parlamentari di cambiare la norma nazionale. E poi internazionalizzazione, missione commerciale in Iran per sette imprese. Abruzzesi, ancora pagina della cronaca regionale, tassa rifiuti scontata se a casa tua fai il compostaggio, e poi si parla di vini, il Montepulciano può crescere in Cina, ma va promosso. Andiamo ancora avanti, arriviamo alle pagine di Pescara del quotidiano Il Centro, si inizia parlando di cronaca, scoperto il piano tra indagati, ragazza droga l'amico, 54enne, e lo rapina l'uomo ricoverato in stato di coma per alcuni giorni all'ospedale di Pescara. Due telecamere hanno incastrato la 19enne e i suoi due complici. Andiamo ancora avanti, operazione del NAS, ancora cronaca, che arriva da Pescara, ma in questo caso l'operazione ha riguardato la nostra regione, denunciati falsi dentisti. Erano igienisti, sequestrato un ambulatorio in centro dopo la denuncia di un paziente, inflitte sanzioni per 20.000 euro su questa operazione dei carabinieri del NAS Abruzzo. Possiamo andare a vedere il servizio realizzato da Alfredo Primante. Gestivano un ambulatorio dontoiatrico in provincia di Pescara, ma nessuno di loro era dentista. I carabinieri del NAS di Pescara, in collaborazione con i militari di Penne, hanno smascherato e denunciato i due professionisti titolari dell'ambulatorio, anche sto posto sotto sequestro, assieme alle attrezzature per un valore di circa 2 milioni di euro. Le indagini del NAS, infatti, hanno permesso di identificare due falsi dentisti che, in assenza di qualsiasi titolo accademico, effettuavano pratiche odontoiatriche sui pazienti. Al termine dell'attività, entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Ma i NAS hanno portato avanti un'analoga operazione anche in provincia di Teramo. I militari hanno individuato un ambulatorio odontoiatrico completamente abusivo. All'interno di un appartamento non c'erano i necessari requisiti igienico-sanitari e strutturali. I tubi idraulici delle apparecchiature erano stesi pericolosamente sul pavimento, collegati alla rete idrica e fognaria domestica, mentre il compressore dell'aria era installato nel servizio igienico. L'intero immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo e il proprietario, l'odontoiatra che operava nello studio, è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Ancora pagina della cronaca di Pescara dal quotidiano Il Centro. Vedete scontro per la piscina, naia di lite sulle tariffe. Intervenga il prefetto, alcune società contro l'ente gestore. Oggi in programma un incontro in regione, poi in basso. Moda e musica, una sfilata per rilanciare Il Centro. Domani pomeriggio in Via Firenze, il defile, un defile di moda prodotto e organizzato da alcuni commercianti proprio di Via Firenze. Poi caso rientrato, si parla di scuola, tutti coperti i posti del sostegno, mentre nel nord Italia è caos per le mancate assegnazioni. A Pescara sono rientrati in classe tutti i docenti esiliati. E poi a centropagina l'adannunzio alle Olimpiadi di Architettura, l'università capofila di quattro Atenei italiani nella competizione internazionale che si terrà a Dubai. Andiamo ancora avanti. Sempre le pagine relative alla cronaca di Pescara dal centro. Il sindaco vuole fare squadra, andiamo tutti in conclave. Dopo il rimpasto, Alessandrini riunisce giunta e consiglieri al Museo delle Genti. Il vertice sabato fino alle 17. I politici non vogliono però perdersi. Pescara-Sandoria che si giocherà alle 18. Vedremo se dunque qualche politico lascerà prima la riunione per recarsi allo stadio adriatico. E poi a proposito di comune, le Iene attaccano sul mare. E proprio l'amministrazione comunale pensa alla querela. E poi maratona d'Annunziana e stand della Lilt. Gazebo in piazza Salotto sabato e domenica. È stata presentata ieri la manifestazione organizzata dalla UISP proprio nel TG6. Nelle edizioni del nostro telegiornale di oggi vi proporremo anche il servizio della presentazione della maratona d'Annunziana che si terrà domenica a Pescara. E poi ancora cronaca, in questo caso sanità, apparecchio per i tumori, sprecati milioni dalla ASL, esposto a Corte dei Conti e Procura. Da parte del Movimento 5 Stelle l'appalto nel mirino, l'appalto per l'acquisto chiuso nove mesi fa eppure il costoso macchinario per la diagnosi precoce viene ancora affittato. Andiamo alla pagina di Montesilvano del quotidiano Il Centro, nuovo CDA dell'ACA, Maragno e Florindi. No, ai diktat di partito sui beni comuni Maragno e Florindi che sono i primi cittadini di Montesilvano e città Sant'Angelo. I due sindaci hanno votato senza seguire ordini di scuderia sul futuro assetto del consorzio acquedottistico. E poi siamo sempre a Montesilvano, via San Gottardo, individuata la perdita idrica che preoccupa 28 famiglie. Poi in basso prende forma uno dei tre ponti sul fiume posate le prime travi sulle campate che collegano le due sponde del Saline. Costo dell'opera 16 milioni. Siamo alla pagina ancora di Pescara e della provincia. Apre lo sportello angolano Giovani e lavoro. Siamo a città Sant'Angelo e poi a Montesilvano Salone dello Studente. 15 mila ragazzi scelgono la facoltà. E poi lutto a Colle Corvino, morta Marlene Spera. Animalisti in lutto. In basso Pianella e consigliere di Tonto, lavori utili per i venti richiedenti asilo. E poi Montesilvano domani notte tangenziale chiusa per otto ore per lavori. E poi progetto turistico al via ai primi laboratori di Spoltur. Associazioni, scuole e comune impegnati per valorizzare la città di Spoltore. E siamo ancora alla pagina dell'area metropolitana di Pescara. In questo caso a San Giovanni Teatino. Niente paura, i profughi sono pochi e controllati. Parla il sindaco di San Giovanni Teatino, Marinucci, che rassicura sulle presenze. Poi all'anno, cantiere all'agrario. Fattore gravi, i ritardi all'ITAS. Alunni a scuola di pomeriggio e poi a Manoppello. Scuola inclusiva, primi test sui bambini. In basso Francavilla al mare, violenze sulle donne. Un concorso, invitati a partecipare tutti gli studenti. Domande entro il 18 di ottobre. E siamo alla pagina di penne dell'Alta Val Pescara. Partiamo dalla zona Vestina. Rapine in casa. Nei paesi ore allarme. Centinaia di messaggi a Ciarfella. D'Andrea di Civitella. Non hanno scrupoli. Lacchetta di Farindola. Sono i primi cittadini di questi paesi che parlano. Qui c'è sicurezza. C'è comunque allarme per gli episodi, per i furti avvenuti negli ultimi giorni. Poi penne, mostra d'arte di Pilone e d'Addazio a Popoli. Rotatoria sulla Tiburtina. Sgombero degli ambulanti. Il prefetto dà ragione al sindaco Galli. Ancora penne. Comune d'Agostino e Camplese formano un nuovo gruppo di maggioranza in comune a penne. Infine tocco da Casauria. Sfreggiati i quadri di Michetti. Teppisti rovinano le riproduzioni del maestro sui muri del paese. E siamo alla pagina del centro di Chieti. L'omicidio di Chieti Scalo è avvenuto all'alba di domenica scorsa. Il GIP dice cipressi è violento e pericoloso. Spunta un sms inviato dall'indagato alla donna che lo ha visto uccidere Di Marco. La lite è nata per una patatina ad un cane. Ieri si sono tenuti i funerali del 39enne morto proprio all'alba di domenica. Folla e musica per l'addio a Fausto Di Marco. Noi però andiamo ad ascoltare nel prossimo servizio l'avvocato di Cipressi proprio all'uscita ieri dal carcere di Madonna del Freddo di Chieti. Si è avvarso della facoltà di non rispondere. Ovviamente poi sono state chieste dalla procura le misure cautelari. Emanuele Cipressi ha scelto la via del silenzio nell'interrogatorio di convalida dell'arresto che si è svolto nelle carcere di Madonna del Freddo davanti al GIP del tribunale di Chieti Luca De Ninis. Il 24enne accusato dell'omicidio del quarantenne musicista Fausto Di Marco a seguito di una lite scoppiata all'interno di un circolo privato di Chieti Scalo, come racconta il suo avvocato Roberto Di Loreto, è provato da quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica. Beh, molto provato, scioccato. È chiaro che è una vicenda dolorosa e triste per tutti. Forse anche per questo non ha voluto smentire o confermare il racconto della supertestimone che ha portato all'arresto del ragazzo. La donna ha raccontato di aver rifiutato l'approccio di Di Marco, il quale le avrebbe lanciato contro un bicchiere finito contro Cipressi, amico della ragazza, che poi avrebbe reagito dando il là alla lite finita in tragedia. L'autopsia sul corpo della vittima ha evidenziato una ferita profonda al collo con margini sfrangiati, che sembrerebbe confermare la prima ipotesi degli investigatori, cioè che a causare la morte di Di Marco sia stato un coccio di bottiglia che gli ha reciso la carotide di sanguandolo. Ora spetterà al GIP decidere quale misura cautelare adottare. Io ritengo che la vicenda possa sufficientemente essere controllata in un ambiente domestico. L'avvocato Di Loreto, l'unico ad aver parlato con Cipressi, rivolge un pensiero ai familiari della vittima per una tragedia, dice, che pone interrogativi a tutta la comunità. Ora il suo stato d'animo credo che sia rappresentativo anche per un dolore, per il dolore che i familiari stanno avvertendo e sentono. Queste le parole dell'avvocato del giovane fermato per l'omicidio di domenica scorsa a Chiediscale. Noi restiamo a Chieti per parlare di la nomina del nuovo procuratore del capologo teatino. Si tratta del PM Francesco Testa, a 45 anni, e da PM Antimafia, sfido a Catania, la Cosca Santa Paola, prenderà il posto di Pietro Mennini. Lasciamo la cronaca di Chieti del centro. Siamo all'Aquila, anversa degli Abruzzi in lutto. Morta infatti purtroppo la donna, ricorderete questa notizia che vi avevamo dato anche nei giorni scorsi, che era rimasta ustionata nell'esplosione di una bombola nell'abitazione dove si trovava per passare alcuni giorni di vacanza ad Avola, in provincia di Siracusa. Manilella Colantonio, 66enne di origini pescaresi, era rimasta ferita sabato scorso in una violenta esplosione in Sicilia. Poi insegnante allenatore, muore nel sonno, il lutto, San Benedetto De Marsi, che piange la scomparsa del professor Edmondo Gentile. E poi siamo a Scanno, travolta da un furgone grave, una 92enne, incidente nel centro del paese, il mezzo guidato da un corriere espresso, stava facendo manovra. E poi in basso, a Cagnano Amiterno, si parla del cementificio Sacci, licenziate 19 persone, dopo l'annuncio shock, scatta lo sciopero allo stabilimento. E siamo alla pagina di Teramo del centro. Teramano Neiguai, arrestato a Fiumicino con 5 chili di droga, il 35enne, fermato all'aeroporto, tornava da Amsterdam, il carico di eroina e cocaina nascosto tra caffè e piumini. E poi controlli sulla bonifica, bloccate 15 prostitute, bloccati e multati i clienti. E poi a Teramo, ragazzina trovata con i pidocchi, è stata sospesa la potestà ai genitori. Il caso scoperto in una casa popolare di Teramo. Poi in basso, posti negati e disabili, Tapiro alla ASL, i dipendenti parcheggiano negli stalli riservati agli invalidi e beffano i divieti sul fumo. La consegna dell'inviato di striscia Valerio Staffelli del Tapiro al manager della ASL Fagnano. Allora noi ci fermiamo per qualche attimo con la lettura dei nostri quotidiani, perché oggi si ricorda San Benedetto, parliamo ovviamente del santo del giorno, soldato della guarnigione romana di stanza a Cupra, l'attuale Cupra Marittima, oggetto di una delle ultime terribili ondate di persecuzione verso i cristiani, quella che fece seguito soprattutto al quarto editto dell'imperatore Diocleziano nel 304. Il soldato Benedetto, del quale si ignorano le origini, non abbiurò la fede cristiana e, secondo la storia tramandata nei secoli, venne decapitato il 13 ottobre del 304 sul ponte del torrente Menocchia e poi gettato nello stesso, qui dopo aver percorso appena 4 miglia, finì su una spiaggia dove venne raccolto da un contadino che volle dargli degna sepoltura sul primo promontorio antistante. La tomba del martire divenne presto luogo di culto e attorno ad essa, nel tempo, si formò il nucleo originario dell'attuale San Benedetto del Tronto. Le spoglie del santo sono conservate nella chiesa di San Benedetto e nel 2003 sono state oggetto di una radiodatazione ad opera dell'Università del Salento che ha confermato, pur entro un intervallo di più o meno 50 anni, dettato dai limiti di precisione di questo tipo di indagine, che le ossa che ancora si conservano sono da attribuirsi ad un uomo morto verso il 300 d.C. Le poche informazioni sul santo ci derivano dai resti di una lapide ancora presente nell'attuale chiesa e che si fa risarire all'epoca della costruzione della prima tomba e a ciò che rimane della memoria di un ciclo di affreschi dell'antica pieve nella quale era rappresentata la storia del martirio e del ritrovamento delle spoglie, così come tramandata nei secoli. Dunque il ricordo di San Benedetto che viene appunto ricordato dalla chiesa cattolica nella giornata del 13 ottobre. È giunto il momento del meteo, dunque andiamo a vedere quali sono le previsioni delle prossime ore, poi ci fermeremo per qualche istante e torneremo come sempre in studio per la seconda parte di Mattino 6. Il nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, esaurite le pagine del centro, siamo al messaggero per vedere anche in questo caso le cronache dalle province. Partiamo da Pescara, drogato con una bibita e derubato, finisci tu la mia Coca-Cola, così è stato narcotizzato da una ragazza e dai due complici. E poi ancora cronaca, truffa al fisco da un miliardo, arrestato un pescarese, un chietino invece ricercato. E poi l'appello dell'ex presidente della provincia, consigliere di Pescara in testa, guerrino testa, che dice petroliere in fuga, piano regolatore e dragaggio, o il porto muore. E poi in basso, visita ieri mattina Pescara nel reparto di oncoematologia del Santo Spirito del tecnico Biancazzurro Massimo Oddo e che con una rappresentanza di giocatori ha fatto proprio visita ai piccoli degenti del reparto del nosocomio pescarese. Visita Condoni, organizzata in collaborazione con la Onlus Massimo Oddo. Tra l'altro erano stati donati nei mesi scorsi proprio dall'associazione, grazie ad una raccolta di maglie vendute su ebay, erano stati donati dei macchinari proprio al reparto ospedaliero. E noi col prossimo servizio realizzato da Francesca Romanatesta andiamo proprio a vedere cosa è accaduto ieri in ospedale a Pescara in occasione della visita dei Biancazzurri. Un gigante lo sarà sembrato di sicuro davanti a quei piccoli pazienti e non solo per l'altezza il tecnico del Pescara Massimo Oddo ha dimostrato levatura e sensibilità. Questa mattina insieme a una piccola delegazione di giocatori tra i quali il capitano Ledia Memushai, Vincenzo Fiorillo e il team manager Andrea Gessa ha percorso il lungo corridoio del reparto di oncoematologia dell'ospedale civile di Pescara portando il suo saluto a grandi e piccini. La sua Onlus ha destinato una raccolta fondi per il sostegno delle attività in corso e oggi è avvenuto l'incontro con pazienti, addetti ai lavori. Ti rendi conto delle difficoltà della vita? Questa purtroppo è la cruda realtà di quello che può aspettare nella vita questi bambini purtroppo e niente, non è la prima volta per me venire in questi reparti purtroppo è molto dura molto dura entrarci perché è facile la commozione è facile non stare bene però purtroppo noi siamo cioè purtroppo, fortunatamente noi siamo personaggi pubblici che possono con una semplice presenza magari regalare un sorriso è poco però nella durezza della vita che c'è in questo momento per questi bambini anche un semplice sorriso è importante. La solidarietà diventa sempre di più una risorsa indispensabile per le attività ospedaliere sottoposta ai tagli governativi l'Agbe ha ricordato anche in questa occasione quanto importante sia ogni piccolo gesto rivolto a chi si trova in difficoltà Massimo Oddo e la Pescara Calcio diventano l'ennesima dimostrazione di come sia possibile migliorare l'adeggenza e il reparto e l'attesa delle terapie. Innanzitutto con collaborazione per ringraziare Oddo per la sua presenza e la presenza dei calciatori che hanno portato un sorriso oggi al nostro reparto sono felicissimo di questa visita e appunto li ringrazio veramente di cuore. Poi sapete benissimo qual è il nostro copo e perché siamo nati noi siamo un gruppo di genitori che appunto si sono conosciuti qui al reparto di Oncromatologia e abbiamo cercato di non abbatterci di fronte al dramma della malattia ma cercare di dare un senso praticamente un senso alla vita e all'arte di questi bambini. Davvero bello questo gesto compiuto da Massimo Oddo e da una rappresentanza di giocatori del Pescara noi cambiamo argomento Movimento 5 Stelle basta proroghe per la PET-TAC Pettinari consigliere regionale autore di due interrogazioni in consiglio dice spreco di soldi pubblici denuncio l'ASL alla Corte dei Conti e noi andiamo dunque ad ascoltare quello che ha detto il consigliere regionale ieri mattina in conferenza stampa. Un esposto alla Corte dei Conti per accertare se ci siano stati danni erariali da parte dell'ASL di Pescara relativi al contratto di locazione per il macchinario diagnostico PET ad affermarlo e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari che ad oltre un anno dalle due interrogazioni che hanno portato alla luce la nostra questione del macchinario torna a chiedere spiegazioni sulle proroghe d'affitto a seguito delle nostre denunce nel gennaio del 2016 hanno aggiudicato l'appalto per l'acquisto e l'installazione del macchinario tra l'altro al piano terra di medicina nucleare purtroppo ad oggi ancora non si fa nulla perché denunciamo questo uno il danno economico che a nostro avviso ci potrebbe essere lo valuterà la magistratura due perché i pazienti vengono iniettati del radiofarmaco al piano interrato reparto di medicina nucleare e sono costretti i poverini a salire al piano terra ad uscire fuori a salire nel camion quindi percorrendo un tragitto non dedicato ed entrando in contatto con donne donne incinte bambini le ragazze che sono lì all'accoglienza all'info point e possono mettere a rischio perché loro sono appunto iniettati in un radiofarmaco e possono anche contaminare potrebbero contaminare e dire radiazioni quindi non è più concepibile che in un paese civile ci sia questa cosa se avessimo acquistato al suo tempo questa apparecchiatura avremmo risparmiato oltre 5 milioni di euro e noi diciamo la nostra proposta con quei 5 milioni di euro potevamo acquistare un nuovo acceleratore lineare che oggi serve per fare la radioterapia magari un acceleratore lineare all'avanguardia che andrebbe a colpire direttamente il problema siamo sempre sul messaggero alle pagine della cronaca di Pescara mare inquinato il sindaco alle Iene c'è stata una disfunzione funzionale e poi allarme salmonella nuovo divieto di pesca dei molluschi bivalvi e poi sport e solidarietà torna domenica prossima a Pescara la maratona da Annunziana andiamo avanti lingue o medicina assalto a Orienta 15 mila studenti delle scuole superiori tra gli stand del campus dell'orientamento aperto ieri a Montesilvano e poi sempre a Montesilvano posate le prime travi delle ponte sul fiume Saline e poi in basso viaggio teatrale con Pasotti da Shakespeare a Pirandello proseguiamo siamo alla pagina dell'Aquila del messaggero Trifuoggi sonda i centristi ma noi restiamo a sinistra incontro tra l'attuale vice sindaco alcuni esponenti ex di area IDV e poi centrodestra Forza Italia svela uomini e programmi domani Calderoli per il no al referendum in basso IVA non versata sequestri confermati ai vertici del calcio e poi legalità Pellegrini la criminalità investe l'ex capo dell'antimafia di Falcone ha partecipato ad un convegno all'auditorium del parco all'Aquila collaboratrice domestica di Rubber aggira un avvocato in pensione sette gli indagati oltre una 58enne aquilana per furto i titolari e i commessi di tre comproro per ricettazione siamo sempre all'Aquila dal 10 novembre torna in scena il teatro stabile dei dieci spettacoli allestiti cinque sono comici e poi giudiziaria lesioni dopo l'operazione indagati dei medici infine in basso l'evento domenica ci sarà la marathon del FAI la delegazione aquilana aderisce all'iniziativa nazionale con i siti a San Demetrio Nevestini Raiano Tagliacozzo Collarmene e Villalago siamo la pagina di Avezzano e Sulmona partiamo dalla Marsica proprio da Avezzano maxi sequestro a imprenditore petrolifero la guardia di finanza mette i sigilli alla villa in centro e all'auto di grossa cilindrata di un operatore del settore l'operazione è stata spiegata in un lungo comunicato evasaliva ed elusi altri obblighi riguardanti la tassazione e poi Sulmona scomparso a 96 anni il maestro Italo Picini e tragedia per la vacanza in Sicilia abbiamo visto anche dal quotidiano il centro è morta la donna di Anversa degli Abruzzi vittima di un'esplosione in un paese in provincia di Siracusa e poi siamo a Sulmona per lo scientifico fermi serve un'altra perizia e poi salvate sette profughe al piano 5 miglia sempre nell'area Vestina tornando in Marsica Celano tenta il suicidio per amore è stata salvata una 22enne di origine romena e poi dicevamo ad Avezzano rubati i soldi per le pensioni delle suore proseguiamo siamo alla pagina di Chieti dopo le avanzo una patatina al cane scatena l'omicidio siamo ovviamente a parlare di quanto accaduto all'alba di domenica scorsa con la morte di Fausto Di Marco una banale discussione in cui è intervenuta la vittima alla base della tragedia e poi a San Giustino l'addio al 39enne morto domenica mattina un addio tra musica poesie e striscioni non tradiamolo e intanto l'indagato non risponde al GIP resta in carcere prima vi avevamo proposto l'intervista con il suo avvocato proprio all'uscita del carcere di Madonna del Freddo e poi la sentenza rapinò il capo della squadra mobile di Chieti patteggia per il colpo a casa di Costantini davanti al giudice è finito il figlio di un testimone di giustizia siamo alla pagina di Lanciano Vastortona salto al distributore di benzina siamo a Vasto furto sventato in via del porto grazie ai carabinieri i cinque banditi costretti a darsi alla fuga a mani vuote e poi sospensiva del Tar pronto soccorso aperto anche di notte all'ospedale di Gissi a Lanciano comitato per il sì al referendum sempre nella città frentana sudore sacrificio e passione Nicolai vincitore di una medaglia alle ultime olimpiadi nel beach volley si racconta ai ragazzi e poi Ortona il cinema Zambra tornerà a vivere i salesiani cedono la sala al comune siamo alla pagina di Teramo del messaggero tapiro d'oro al manager Fagnano questo è il titolo d'apertura nel mirino di striscia la notizia i dipendenti che sostano nelle aree riservate ai disabili e che fumano negli uffici Valerio Staffelli è salito con il cameraman al quinto piano e ha trovato un direttore generale rilassato e pronto al dialogo andiamo a vedere dunque cosa è accaduto ieri nel prossimo servizio la troupe di striscia la notizia con a capo Valerio Staffelli ha consegnato questa mattina il tapiro d'oro al direttore generale della ASL di Teramo Roberto Fagnano la redazione della famosa trasmissione televisiva è stata allertata nei mesi scorsi per i parcheggi riservati ai disabili nella struttura sanitaria incontrata a Casalena spesso occupati da dirigenti e dipendenti del servizio di prevenzione della ASL così Valerio Staffelli si è recato nella sede della ASL di Teramo in circonvalazione Ragusa per consegnare il famoso tapiro al direttore generale il manager Fagnano ha accettato e ringraziato Staffelli e la sua troupe per averlo messo al corrente delle pessime abitudini di alcuni dipendenti e ha promesso che a partire da oggi adotterà una linea dura nei confronti di chi non rispetta le norme anche applicando sanzioni disciplinari Valerio Staffelli ha apprezzato le dichiarazioni del direttore Fagnano e ha detto come d'abitudine che tornerà a trovarlo tra qualche tempo per verificare se le promesse saranno state mantenute Siamo avanti da Amsterdam con 5 kg di droga Teramano arrestato a Fiumicino vedete il titolo Rex il cane antidroga della polizia ha segnalato agli operatori una serie di bagagli in arrivo dall'Olanda e poi l'autopsia confermato Collins morto per cause naturali l'inglese che doveva rispondere della morte di due marittimi in seguito ad un incidente stradale e poi in basso si parla di comune a Teramo e della Teramo Ambiente il PD convoca una commissione un debito da 3 milioni che rischia di ricadere sulle bollette dei cittadini siamo alla pagina dell'area costiera della provincia di Teramo Nas denunciati tre falsi dentisti abbiamo visto prima il servizio di Affredo Primante ancora Giulianova due rom sfondano la porta e occupano una casa dell'Ater ospedale abbandonato questa l'accusa a Giulianova degli esponenti del Movimento 5 Stelle ancora Giulianova chiosco del Parco Franchi il Tar deciderà nel merito e poi Martinsicuro rotatoria della strada adriatica se è stata alle 16 ecco il sì definitivo infine in basso siamo a Roseto degli Abruzzi il piano asfalti diventa un duello politico siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine del quotidiano la città di Ettera ma poi nell'ultima parte ovviamente parleremo di sport ma vediamo andiamo per ordine come sempre vediamo la prima pagina del quotidiano la città oggi in edicola si parla in primo piano il titolo principale riguarda Alba Adriatica il Tar sblocca il depuratore poi vedete la foto Tapiro d'Oro Arla Hasl abbiamo appena visto il servizio di Elisa Leuzzo allora possiamo andare a vedere le pagine interne del quotidiano la città partiamo dalla cronaca ucciso per l'alcol una donna e la scusa del cane ricostruito il movente banale dell'omicidio di Chieti l'assassino resta in carcere dopo la scena muta davanti al Jeep e poi in basso Maxi Frode dell'IVA da un miliardo arresti anche nel Pescarese la guardia di finanza di Vicenza ha scoperto un giro internazionale di società inesistenti usate per evadere le tasse proseguiamo striscia a terra motapiro d'oro al manager ASL Fagnano abbiamo come detto visto il servizio un manager dell'ASL ovviamente sorridente rilassato per questa consegna del tapiro da parte dell'inviato di striscia la notizia Valerio Staffelli e poi il concorsone nonostante le segnalazioni l'ASL va avanti con la seconda prova sanità manca il personale stato d'agitazione nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Mazzini di Teramo beccati in aeroporto con 5 kg di droga Fiumicino 35enne Teramano di ritorno dall'Olanda fermato al ritiro bagagli dai cani antidroga pugni alzati e corri ultra per l'ultimo saluto a Valerio folla di amici e di tifosi del Teramo ai funerali del 27enne di Colleparco in piazza Garibaldi e poi in basso una notizia che riguarda l'editoria televisiva Teleponte è sottoscritto l'accordo per tornare in onda ancora avanti stati generali già fatti e subito dimenticati la prossima settimana all'ipogeo il bis di un'iniziativa già organizzata nel 2011 dal PD a Santa Maria a Bitetto e poi Campli il sindaco quaresimale protagonista all'assemblea del Lanci proseguiamo parliamo di politica Dodo Renzi è anche il mio presidente sulla bacheca del PD Angelotti leader di Teramo soprattutto lancia messaggi al PD sul referendum e a proposito di referendum vedete più in basso Chiodi e Di Dalmazio schierati sul no con Quagliariello martedì c'è stato il vertice del movimento idea il futuro del centrodestra dicono e Stefano Parisi finché c'è musica c'è speranza la Benedetto Marcello presenta la ventitresima stagione trentatresima stagione concertistica tra mille difficoltà siamo ad Alba Adriatica il Tar sblocca i lavori al depuratore del Ruzzo i giudici respingono la richiesta di sospensiva presentata contro l'affidamento del maxi appalto e poi cronaca l'inglese accusato di omicidio ucciso da un infarto ieri mattina l'autopsia su Stephen Collins accusato di omicidio colposo Martin Sicuro la rotatoria del cimitero approda in consiglio comunale siamo alla pagina della Val Vibrata studio dentistico tra bagno e cucina di casa convalidato il sequestro del locale allestito da un professionista di Alba Adriatica e controllato dal NAS poi in basso la polizia intensifica i controlli anti prostituzione nella zona della bonifica del Tronto pagina di Giuliano Vamociano sindacati contro l'ospedale unico di Mastro Mauro la CGL parla di ipotesi vaga e di confusione ma in realtà ci sono già progetto e finanziamento e poi ancora Giulianova Costantini spara a zero sul commercio per l'associazione verso manca la condivisione siamo ancora alla pagina di Roseto Pineto Atri e Silvi partiamo da Roseto maggioranza sorda nessun confronto possibile in consiglio questo è il titolo che riguarda Roseto degli Abruzzi poi Silvi Marina via ai lavori per i pennelli verticali ma salta il progetto del Porticciolo in Basso Pineto presentato ieri il progetto per l'affido atipico pagina della cultura se Adelbertus torna dal Medioevo all'assemblea della deputazione di Storia Patria un antico documento sul città di Teramo arriviamo alla pagina di sport in questo caso relativa proprio alla formazione bianco-rossa Steffè ritrova Inzaghi ed è quasi un derby cresciuto nelle giovanili dell'Inter il neo bianco-rosso ha incontrato più volte il tecnico quando allenava la primavera del Milan e dunque con la pagina dello sport del quotidiano la città possiamo parlare di sport partendo però dai quotidiani nazionali sportivi oggi in edicola per vedere le prime pagine iniziamo dalla gazzetta dello sport parla il sindaco di Milano di Milano Sala nuovo San Siro per due e dunque potrebbero essere novità per lo stadio di Milano e intanto c'è un pensiero anche all'Olimpiade del 2028 in alto top flop della Serie A da Iguain Gio Mario che affari la padula ex attaccante del Pescara come tutti sapete resta ancora un mistero ha giocato fino ad oggi 67 minuti in una sola gara impiegato dal tecnico rossonero Montella dalla gazzetta dello sport al corriere dello sport Santità si ricorda quel gol Maradona disegna a Papa Francesco la prodezza contro gli inglesi che fece impazzire tutti gli argentini festa in Vaticano poi tutti all'Olimpico per la partita della pace Diego manda in gol a Totti e litiga con Beron siamo a tutto sport quotidiano che ovviamente affronta in maniera particolare segue in maniera particolare le formazioni torinesi Argentina impara dalle Juventus in fondo allegri eppure contento dell'utilizzo limitato di Di Bala ma troverà un iguain furioso e poi l'inchiesta Stadi e TV così la può uscire dalla crisi e torniamo a parlare di sport dalle pagine del quotidiano il centro e il messaggero sport in questo caso di casa nostra partiamo dal centro Zeman torna a Pescara nel calcio mai dire mai il tecnico a 69 anni ho tanta voglia di allenare i più forti Totti e Verratti ieri Zeman era al Golf Club di Miglianico per partecipare ad un torneo è stato avvicinato dal collega Paolo Sinibaldi vediamo il servizio mister Zeman quando torna in Abruzzo baci abbracci a tanti amici che hai lasciato qui anche al Miglianico Golf Club io mi sono trovato bene penso che anche la gente ha apprezzato quello che abbiamo fatto quell'anno e quindi non credo che ci sono molti nemici in Abruzzo lei ha ricordato per quella magnifica stagione davvero indimenticabile quanto tempo è passato anche nella sua testa da quel momento perché qui è molto ben presente quel campionato in Abruzzo vabbè è passato tempo però io seguo sempre io seguo sempre i giocatori che c'erano non solo non solo i tre ma anche Balzano Cascione Conè quei ragazzi Romagnoli quei ragazzi che c'erano e che hanno fatto di tutto per far sentire pescare importante Le faccio un'ultima domanda è quella banale classica giornalistica se segue ancora il Pescara se conosce Oddo e insomma cosa pensa di questo campionato di Serie A per il Pescara che ovviamente si annuncia molto difficile Vabbè seguo Pescara è normale che lo seguano poi su Oddo io lo conosco più da giocatore che da allenatore è un ragazzo che ha fatto bene l'anno scorso ha portato la squadra in Serie A è normale che bisogna bisogna abituarsi a Serie A e penso che c'è ancora tempo per poter far vedere che Pescara può rimanere in Serie A e può giocarsela con tutti Queste le parole del tecnico boemo ex allenatore del Pescara grande protagonista quattro stagioni fa con la promozione conquistata dai biancazzurri nella gara di Luigi Ferraris di Genova contro la Sampdoria e proprio sabato prossimo la formazione blu cerchiata sarà ospita allo stadio Adriatico per il ritorno del massimo campionato dopo la sosta per le nazionali Aquilani Pescara ora sì che sono pronto con la Sampdoria il centrocampista vuole prendere per mano la squadra queste le dichiarazioni del tecnico biancazzurro e poi Brugman a Torreira scusa ma le prenderà sfida tra uruguayani perché come detto ci sarà questa gara a distanza tra Pescara e Torreira e si affronteranno due giocatori uruguagi Brugman tornato a Pescara dopo l'esperienza con il Palermo e Torreira che è stato grande protagonista nel Pescara anche nella passata stagione nel Pescara di Massimo Oddo e poi i cinesi avanti con il Milan trattativo ok per il derby questo è un titolo di sport di calcio nazionale e poi Lega Pro Teramo vuole sfatare i tabù trasferta e Venezia si parla della gara di sabato che giocheranno i biancorossi proprio al penso contro la formazione allenata da Pippo Inzaghi e poi vedete il calcio di eccellenza ieri le gare di Coppa Italia con la vittoria del Morodoro a Martinsicuro 0-0 tra Cupello e Sambuceto 3-1 del Paterno con il Capistrello vittoria dell'Alba Adriatica 1-0 con l'Angolana questi risultati di ieri andiamo ancora avanti l'ultima pagina di sport con Lavastese in primo piano ora la città sogna dopo la vittoria con la formazione del Matelica nell'ultimo turno in alto Trullo Roseto Asmit che fa paura possiamo passare alle pagine dello sport del messaggero prima di chiudere Pescara novità in vista potrebbe modificare il modulo contro la Samp Zeman la salvezza ci sarà da lottare lo abbiamo ascoltato Teramo a Venezia si torna alla difesa 3 questo il punto di domanda in vista della gara che si giocherà in Veneto poi nell'altra pagina di sport l'Aquila tifosi al lavoro per cercare nuovi soci e poi si parla di rugby questo derby merita un grande pubblico perché si giocherà nel prossimo turno l'Aquila Gran Sasso e poi si parla di Serie D il mio Pineto concentrazione e lavoro ieri presentato il nuovo allenatore della formazione pinetese Daniele Amauro che è stato avvicinato da Roberta Di Sante Diamo il benvenuto a mister Daniele Amauro qui a Pineto mister innanzitutto come hai accolto questa notizia insomma questa scelta beh sempre con entusiasmo ho fatto piacere la chiamata in una società importante come il Pineto che in questo momento forse è il fiore d'occhiello della serie D per quanto riguarda l'Abruzzo quindi una delle migliori società in circolazione ha un progetto importante questo mi ha spinto ad accettare la proposta di questa società e quindi quando poi avviene questo cerco di tirare fuori il meglio di me stesso e cercherò di trasmettere il mio entusiasmo la mia voglia di lavorare con i ragazzi per raggiungere il traguardo che la società si è prefissato Mister tu sei abituato a portare a prendere squadre in corsa magari anche con situazioni di classifica un po' difficile e poi a portarle alla salvezza che cosa puoi dare in più a questo Pineto beh un po' di esperienza da questo punto di vista ne ho ecco è chiaro che poi non ho la pacchetta magica quindi magari dobbiamo dare un po' trovare un'inversione di rotta da tutti quanti ci dobbiamo rimettere in discussione a partire da me perché non si va avanti per quello fatto negli anni passati cercando di preparare al meglio le partite dare delle risposte e l'obiettivo nostro è quello di lavorare e far sì che chi ci ha scelto ecco rimanga soddisfatto del nostro lavoro Bocca al lupo a Daniele Amaulo per questa nuova avventura in Abruzzo sulla panchina del Pineto siamo in chiusura gli ultimi titoli Russo il portiere che fa volare la vastese parla proprio l'estremo difensore bianco-rosso dopo l'ottimo momento della squadra allenata da mister Colavitto poi Coppa Italia di promozione Giulianova passa Santomero per 1-0 con un gol di Di Stefano in basso il volley la sieco ortona dei giovani parte bene sabato prossimo trasferta sul campo del Santa Croce dell'Arno per la conferma e dunque siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi di giovedì 13 ottobre con Mattino 6 come sempre grazie per la vostra cortesa attenzione ringrazio Gianni D'Areo in regia vi ricordo come sempre i prossimi appuntamenti informativi con il nostro TG6 le edizioni delle 14 delle 19 e delle 23 di nuovo grazie e buon proseguimento di giornata a di agga a 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 Grazie a tutti.